Occhio eh! Destra, 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 un passo a destra, un altro passo, un altro passo, un altro passo, così come stai. Guarda che c'hai Claudio, c'hai Claudio facile! Marco a corsa! Bravo! Bravo! Torna, 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 torna! Non ti fa saltare! Vai bravo! Me ne stanno due qua da soli, uno è partito eh regà! Regà! Comunque c'è lui da solo eh! Oh! 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 No, è preso! Oh! No, è preso! Oh! Oh, è preso! no! oh! oh! vabbè, brava presa, l'ha fatto bene la scelta super bellissima no! ah! 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 basta così, stiamo a perdere sempre l'uomo davanti alla difesa ok passavolo giù passavolo giù ecco io no! no! attaccato! attaccato, bravo! dai che siete in due da solo! solo, solo, solo ah! fuori fuori dai, ti va, va, qui non ci scivolano bravo, lo che è! tutto ah! 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 need to summa con questo, non? quarto fallo, quarto fallo! dai, ya, ya! dai, ya, ya! two! eh! ah! bravo da rientra da attento che rientra non usci a panare ma capito mi sono fatto quello è questo ma di chi è questo regà risalite risalite mamma mia santo Luca caccia la porca caccia la è il giorno santo Luca caccia la porca l'amp caccia la porca caccia la porca caccia la porca Oh, chi è stanto esce, regà? Vai, gioca! Guarda, ottica, ottica! Angolo! 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 23 24 25 25 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 26 26 27 28 29 29 31